scontro diretto tra terze forze del campionato di serie d al dei marsi di avezzano davanti ai biancoverti di scorsini oggi assente causa positività al covid ecco il porto d'ascoli che sta stupendo oltre ogni aspettativa gli ospiti riescono sin da subito ad imporre il loro gioco nella marsica con i locali che scendono in campo con l'inedito 4-3-3 ma sbandano dietro occasione per napolano e miracolo di coco quindi bianciardi prova a mettere paura a testa pur senza riuscire a trovare lo specchio della porta dei marchigiani il vantaggio del porto d'ascoli arriva al 35esimo della ripresa pallone tagliato in mezzo alla difesa vezzanese spagna si ritrova davanti a coco e con un lob morbido di sinistro riesce a scavalcarlo per il centro dello 0 a 1 grandi festeggiamenti per i marchigiani che poi potrebbero chiudere il match con un gran bolide di napolano su cui vola coco e sugli sviluppi del corner seguente un mezzo suicidio della retroguardia bianco verde porta ancora napolano davanti a coco che si conferma portiere di primissimo livello evitando il tracollo l'ennesima conclusione sparacchiata di bianciardi davanti a testa va a chiudere di fatto il primo tempo e siamo quindi già nella ripresa con l'avezzano che tenta l'assalto all'arma bianca alla porta ospite donatangelo conclude da fuori aria e non trova lo specchio di pochissimo quindi bianco verdi provano a spaventare ancora testa con un'azione continuata da calcio piazzato pellecchia la rimette in mezzo da distanza ravvicinata ma né dos santos né sisse riescono a raggiungere la sfera gli ultimissimi assalti marsicani non cagionano il pareggio anzi un rosso per zanon complica irrimediabilmente i piani di scorsini e dal triplice fischio finale il risultato è la vittoria del porto d'ascoli che stacca proprio l'avezzano in classifica e si conferma la terza forza della serie d grazie